E sulla questione toponomastica c'è la presa di posizione anche da parte del Ministro degli Esteri, Franco Frattini. Andremo fino in fondo, così il Ministro degli Esteri, Franco Frattini, ha commentato la questione toponomastica. Il titolare della Farnesina ribadisce la solidarietà con il Ministro Fitto e la linea di fermezza del Governo sul bilinguismo. Dice Durnwalder, usa toni da dittatorello di un paese in via di sviluppo. Ed intanto anche il Ministro per i rapporti con le regioni definisce preoccupanti le esternazioni minacciose del Governatore dell'Alto Adige, mentre il Vice Presidente della provincia, Cristian Tommasini, getta acqua sul fuoco. Io non me ne frego, ha affermato quest'ultimo, e penso sia ancora possibile trattare. Dello stesso avviso anche i parlamentari dell'SVP, Brucker, Pinscher e Peterlini, secondo i quali forse Roma sta forzando la mano, ma gli errori da parte Alto Adesina ci sono e vanno certamente corretti.